Applausi a scena aperta per la nuova Itas Trentino. È il caso di dirlo perché la presentazione è andata in scena sul palco di un teatro sociale gremito da 700 persone. Tanto entusiasmo per la squadra e lo staff tecnico con il beneaugurante ritorno del vecchio sponsor sulle maglie che ha accompagnato i trentini nella conquista dei trofei più prestigiosi. E sono proprio le maglie una delle novità che è stata presentata nel corso della serata. Clima di festa, ma testa già sabato con il primo impegno ufficiale della stagione. L'appuntamento è con la Supercoppa. In semifinale i ragazzi di Mister Lorenzetti se la vedranno con i padroni di casa di Perugia. Un match non preparato al meglio dalla squadra per via del mondiale che ha visto protagonisti tanti giocatori di Trento. Questo è un aspetto negativo di avere tanti giocatori bravi che militano in tutte le nazionali. Fino all'altro giorno erano occupati quindi non hanno potuto allenarsi con noi. Naturalmente pagheremo questo scotto sicuramente come anche altre squadre. Avremo un avvio che non sarà quello che ci aspettiamo, che abbiamo programmato, ma è solo questione di tempo. Consapevole della difficoltà dell'impegno è anche il capitano Simone Giannelli. La Supercoppa è sempre da affrontare con lo spirito battagliero sicuramente, ma col pensare di che ognuno di noi deve fare qualcosa a livello individuale un po'. Purtroppo sempre all'interno di una squadra, però comunque essendoci poco allenamento, quasi niente, bisogna arrangiarsi con quel che si ha. Così è per noi, così è per tutti. Toccherà a Lorenzetti amalgamare al meglio la squadra con l'innesto dei nuovi arrivi. Mister, questa sera una festa, poi si comincia subito a combattere, ma prima due parole sulla rosa, insomma, quest'anno una squadra fortissima. Lo speriamo, lavoriamo per diventarlo. Come dicevo prima, insomma, questo è l'obiettivo della società, dei tifosi, da quello che abbiamo sentito. Questi giorni cerco di ripetere, noi non siamo quell'obiettivo lì, noi lavoriamo per quell'obiettivo lì, vuol dire che al momento siamo un'altra cosa, bisogna rimboccarsi le maniche per cercare di diventarlo. Il sipario sulla nuova stagione di Trentino Volley si è alzato, ora il palcoscenico diventa il campo da gioco.